Ritorna la Confesercenti a Giuliano. Ieri nella sala del primo circolo, alla presenza dei vertici della sigla sindacale dell'amministrazione comunale di autorità religiose e militari, sono stati presentati nuovi progetti dopo il grande impegno negli anni scorsi della COIGIAS. Alla presidenza è stato confermato Rosario Porcaro e con la Confesercenti gli imprenditori giulianesi potranno usufruire di diversi nuovi servizi. Ritorna la Confesercenti a Giuliano. Per noi è un passaggio da tre anni e mezzo di COIGIAS dove pensiamo di aver fatto bene sul territorio. La COIGIAS resta sul territorio, si occuperà di eventi, quindi aggregazione, ma avevamo bisogno necessariamente di poter offrire e per poter stare al fianco dei commercianti di qualcosa che ci desse una spinta maggiore. Confesercenti è una sigla nazionale importante sul territorio, radicata sul territorio. Parliamo di 11.000 imprese nella regione, parliamo di tante aziende che possono usufruire dei servizi di Confesercenti. Oggi siamo in grado di poter stare al fianco di un'impresa, di un artigiano, di un industriale offrendo dei servizi dallo sportello COSVIC, quindi parliamo di medio credito centrale, parliamo di finanziamenti agevolati, garantiti, con tassi bancari molto bassi, parliamo di sportello franchising, parliamo di anatocismo, parliamo di CAF, parliamo di servizi a 360 gradi che possono tranquillamente aiutare un imprenditore in un momento molto difficile commercialmente a risolvere delle problematiche. Chiaramente il mio appello è rivolto a chi magari ha una costituzione, voglio dire, aziendale fatta come si deve. Per il vicepresidente nazionale schiavo la Confesercenti aveva l'obbligo di essere presente nella terza città della Campania. Confesercenti a livello nazionale ha l'obbligo di essere presente su questi luoghi, ha l'obbligo di stare vicino alle imprese, ha l'obbligo di poter costruire dei nuovi progetti, di sostenere i progetti che ci sono, di stare a fianco alle amministrazioni, di cercare di dare impulso perché si possa costruire un progetto per migliorare il futuro delle nostre imprese e dei figli che dovranno rimanere su questo territorio perché orgogliosi di quello che hanno costruito i loro padri. Sicuramente tutti i nostri sportelli, compreso quello antica morra e stesso impresa, con tutto quello che è la sicurezza, sarà a fianco delle imprese presente sul territorio di Giuliano, come sempre facciamo su tutto il territorio campano e nazionale, ci metteremo la faccia, metteremo la nostra presenza, metteremo i nostri uomini per stare a fianco degli imprenditori, per non farli sentire mai soli. Il primo cittadino sottolinea invece l'importanza di avere un interlocutore su temi come commercio e rilancio economico. Nei prossimi mesi l'amministrazione comunale lavorerà infatti sugli incentivi alle attività produttive sull'organizzazione del centro commerciale naturale sia in centro che in fascia costiera. Credo che sia importante per ogni amministrazione avere degli interlocutori forti che siano in grado di rappresentare i mondi dell'imprenditoria, del commercio in questo caso, in modo da poter avere anche una possibilità di confronto costante e di arricchimento di idee. Abbiamo lavorato bene in questo scorcio di mandato con le organizzazioni presenti sul territorio. Da oggi le associazioni categorie si danno anche un'altra organizzazione, a noi fa piacere, lavoreremo meglio e intanto da settembre si riparte col confronto anche per la nuova programmazione dei fondi FESR che prevedono per la prima volta una serie di incentivi per le imprese del territorio e noi dovremo cominciare a ragionare, a lavorare rispetto al tipo di incentivi che vogliamo mettere in campo per rilanciare le attività produttive della nostra città e per rilanciare la nostra città. Tra queste dovremo finalmente mettere mano al Centro Commerciale Naturale e quindi la sfida che tutti noi dovremo raccogliere è quella della Costituzione, del Centro Commerciale Naturale del Centro Cittadino e del Centro Commerciale Naturale della zona Domizia. Quindi una doppia sfida e una doppia rappresentanza.